Beh ragazzi il mio è Raff e oggi siamo qui ritornati su Clash Royale In questo tempo che non ho fatto video sono successe un casino di cose Tra cui ciccio che prende un cornetto in faccia E ciccio che prende un cornetto in faccia Eh molte notizie vero? Io mi incazzo! Comunque oh mio Dio Oh mio Dio Sono a 2630 Non me ne ero nemmeno accorto e notare le gemme Non chiudete gli occhi e non girate la testa Questo è un segno che oggi Fottutamente oggi troveremo una leggendaria Io ne sono più sicuro Più che sicuro Ovviamente saluto il mio clan Che è sempre questo Claudio Che continua ad entrare gente Non so perché Comunque chi se ne frega Andiamo a spacchettare tutti questi bauli E ovviamente alla fine ci sarà un attacco Quindi se volete vederlo Mi raccomando restate per tutto il video E vincerete Del pesce Ma non abbiamo mica solo questi tre bauli Ma bensì abbiamo anche quello Epico No no questo ho sbagliato Questo Quanto è bello A me piace un casino Però dentro non c'è un granché Però ci accontentiamo Vai Iniziamo Uno Epica Dammi l'epica No il mega sgherro Non mi piace Seconda Oro Orda di sgherri Bombarolo Capanna di goblin Sgherri Vabbò l'ultimo Oro Che novità Scarica Ve lo dico Se esce la leggendaria Io spacco tutto Veramente Cioè io faccio un urlo Che sveglio mia madre E la vicina Goblin Goblin Bombarolo La prossima dovrebbe essere un'epica Tre epiche se non sbaglio Il gigante non credo sia epico Però te ne devi andare Grazie Tre guardie Mamma mia Miglioramento disponibile Grazie per avermelo fatto notare Che bello Non abbiamo trovato ancora niente Però abbiamo il baule Epico Ma Guarda quanti Quanti pacchi di gemme Cos'è sta roba Cos'è che hanno aggiunto qui Pacchetto principiante Tre Quattro e cinque Grazie Lo terrò in mente Ma andiamo subito ad aprire il baule Epico Tac Diecimila euro sono andati A farsi fottere Non credo di trovare leggendari In questo baule Ancora tre guardie Allora mi pigliate veramente Per il culo Che mi ha dato le carte Che non ho mai usato Su clash royale Nella vita Bello Grazie Ok possiamo andare Ad attaccare Perché siamo a 2630 Io non ci credo ancora Ed è il mio record Probabilmente Sì 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 Vediamo Eh già È il mio massimo Di trofei Quindi oggi Cercheremo di superarlo Cosa che non riusciremo mai a fare Però ci proviamo Non credo vinceremo con questa connessione E lo credo bene Ma ci proviamo lo stesso Così ci prendiamo anche quel baule della corona Se riusciamo Dai dai che son carico Dai su Però muoviti Ah come credevo di vincere con questa connessione Come crediamo Green key Green key 56 Bel nome Metti l'estrattore Per favore Così io ti posso lanciare il minatore Mettilo Dai Fallo per me Eh va bene Non vuoi attaccare Allora attacco io Vai T'ho questo No 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 Tu non hai capito Un cavolo connessione Va bene Quando ti toglievi con i bauli Ma no Ora No 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 Sono giapponese Oddio Gli ho fatto una torre fuori Ma seriamente What the fuck rank Questa l'abbiamo vinta Non so come cavolo sia possibile Però va bene così L'abbiamo vinta Facile Facile E tre corone a me E tre corone a me E tutto a me L'avversario ha lasciato lo sconto Va bene Grazie Grazie Ti amo Ti adoro Ma che cazzo vuoi Green key 56 Tu sei un mito Ah si è unito Per vedere il risultato Oh e quindi ce ne manca Basta 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 Hai rotto Quindi ci manca solamente Una corona Grazie che metti l'estrattore Quanto ti amo No Oh Ma cosa Me li ha messi dopo tre ore No regà La mia connessione No 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 Non va bene Io mi incavolo se la perdo Io mi incavolo Oh cacchio Quanto siamo fottuti Da uno a sette Dai Dai ma mettimi quelle truppe Madonna le mette dopo tre anni Ecco che bello Da La scarica me l'ha messa dopo tre anni No Io non posso perdere per colpa della connessione Non posso No 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 Ah rimetti l'estrattore Guarda che schifo di connessione No però io no No io non posso No 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 Io non posso aver perso per Per una connessione Però una corona l'abbiamo presa 2629 Porca puttana Siamo ritornati all'inizio Vabbè 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 Apriamo questo baule E direi che l'episodio può terminare qui Almeno che io non trovi una leggendaria in questo baule Certo Gli sgherri leggendari Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lascia un'ottima di vi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Beh ragazzi Ciao